Pulito è uno degli elementi per realizzare questi obiettivi. Onorevole Toia. Come dice la vostra comunicazione, l'energia meno costosa è quella che non consumiamo. La chiave di questo apparente paradosso è proprio l'efficienza energetica, che io considero un'assoluta priorità assieme alle rinnovabili. È un'opportunità per i cittadini, per la bolletta energetica, per il miglioramento ambientale, per la salute dei cittadini. Sì, dico aria pulita, come dite voi, se penso a quello che accade in alcune città d'Europa, dove oggi l'aria è irrespirabile. Ed è una grande opportunità, formidabile, anche per l'industria, ma occorre agire in modo collegiale, integrato. Io invito perciò la Commissione, formalmente, a operare in modo più coordinato con i commissari all'industria, all'innovazione, al budget, perché fare efficienza energetica significa, primo, sostegno alla ricerca in campo tecnologico-ambientale, per l'abitazione, i trasporti e le industrie stesse. Sostenere le nuove imprese, le start-up che nascono con questi progetti innovativi. Avere una finanza più flessibile, più intelligente, proprio per questi prodotti, per la loro creazione e la distribuzione del mercato. Preparare le competenze e le professioni necessarie. Siamo tutti consapevoli che in Europa, in questo settore, l'Europa potrebbe avere forte capacità competitiva e leadership industriale. Ora voglio parlare del Presidente. Onorevole Ökmark, Signor Presidente, il mercato europeo dell'energia deve basarsi su una concorrenza libera, aperta e sana. Deve basarsi su condizioni eque.